Oggi la pace in Europa non è più scontata, la nostra libertà non è più scontata, basta arrivare poco lontano da qui per vederlo, siamo in Europa, non siamo in un posto così distante e niente di tutto quello che noi davamo per scontato oggi esiste se noi non abbiamo la consapevolezza di doverlo difendere. L'ordine internazionale dal quale eravamo abituati non è più scontato perché chi conosce la geopolitica un po' più di certi dibattiti che a volte sento sa benissimo e capisce benissimo come nel conflitto in Ucraina, dietro al conflitto ucraino si sceglie in realtà un conflitto che ha dimensioni molto più ampie e che non coinvolge solamente l'Ucraina e la Russia, come piace ad alcuni vedere e come purtroppo non è e se anche coinvolgesse solamente l'Ucraina rimarrei in ogni caso dell'idea che l'Italia ha fatto quello che doveva fare e continuerà a fare quello che deve fare.